Se io adesso vi dico di prendere il vostro portafogli, portamonete, borsellino, come volete chiamarlo, e di dirmi quanti soldi incontanti avete. Se lo faccio col mio, probabilmente ho 5 euro, 15 al massimo, ma proprio volendo esagerare, il più delle volte non ho assolutamente nemmeno un euro dentro il mio portafogli. Perché? Perché ormai mi sono così tanto abituata alla comodità di pagare con la carta di credito che mi sembra una cosa molto più comoda, mi ha permesso di ridurre le dimensioni del mio portafogli. Ora ne ho uno veramente minuscolo, poco più grande della mia carta di credito, e dentro ho la carta di credito, la patente, la tessera sanitaria e basta. E sta dentro la tasca dei miei pantaloni o dentro la tasca della giacca. Quindi andare verso una società senza più soldi in carta o in moneta sembrerebbe una cosa auspicabile. Questo è quello che io pensavo, però qualche tempo fa ho letto un articolo che mi ha fatto riflettere e mi ha fatto addirittura cambiare idea. Ora vi dico perché. Immaginate la situazione di una persona che vive in una situazione dove viene controllata da un partner possessivo, violento, insomma una persona, diciamo una donna che sta in una brutta situazione. Ecco, spesso capita che le donne in queste situazioni siano costrette a nascondere dei soldi dal proprio partner e lo fanno con i soldi incontanti. Quindi eliminare completamente i soldi incontanti dalla società metterebbe a rischio queste persone. Ci sono poi delle altre categorie di persone che avrebbero grosse difficoltà se non ci fossero più le monete e le banconote. Pensate alle persone che non hanno un conto in banca o un conto alle poste o che ancora preferiscono usare le monete perché sono persone di una certa età e sono abituate a un certo tipo di contrattazione. Ci sono delle persone che hanno la necessità, anche quando hanno la cartina, di andare a prendere soldi dal bancomat perché gli dà la possibilità di uscire di casa, di incontrare delle persone, di salutarle e questo non accadrebbe se ad esempio usassero la carta di credito per acquistare le cose online e magari farsene portare direttamente a casa. Quindi così come tutte le cose tecnologiche che sembrano sempre belle, sembra sempre che risolvano tutti i problemi, bisogna sempre un po' andarci coi piedi di piombo e poi non dimentichiamoci che basta che ci sia un blackout, basta che non ci sia elettricità e allora le carte di credito dove ce le mettiamo? In tasca, non ne facciamo più niente perché quando arriverà il momento del blackout totale allora ci vorranno i soldi incontanti, biglietti e monete.